Neanche il tempo di festeggiare l'elezione che arriva alla prima grana per il nuovo segretario nazionale della Lega Nord Liga Veneta Gian Antonio Darè. L'ex sindaco di Vittorio Veneto conta di riconquistare Treviso alle prossime amministrative ricompattando il partito anche attraverso la formazione di un gruppo unico a Palazzo dei Trecento, vale a dire annettendo al carroccio la lista Gentilini. La risposta dello sceriffo non si fa attendere, arriva immediata e senza possibilità di fraintendimenti, non se ne parla neanche. Io non ravviso questa necessità perché Darè dovrebbe ricordare che Bossi disse a Gentilini, Gentilini è la Lega e la Lega è Gentilini. Io non ho mai fatto questione di divisioni, la Lega è una sola rappresentata da due liste, quindi una idea che io assolutamente non accetto. Il messaggio ai nuovi vertici del carroccio è chiaro, l'era Gentilini è tutt'altro che finita. Io mi sento ribollire il sangue perché Gentilini ha un pregio, tirava più voti e quindi tanti non si sentivano di votare Lega, ma votavano Gentilini come uomo pur sapendo che erano in simbiosi con la Lega. Se da un lato si apre un problema politico sui gruppi consigliari a Treviso, dall'altro c'è anche l'inchiesta giudiziaria sulla veridicità delle firme raccolte a sostegno della lista Treviso ci piace, una delle civiche che sostennero Gentilini alle ultime elezioni. Una vicenda per la quale è stato rinviato a giudizio l'assessore provinciale Mirko Lorenzon, che sostiene di aver autenticato solo le firme prese davanti ai suoi occhi, negando che sia sua la firma per l'autentificazione. Qualcuno nella Lega, afferma Lorenzon, ha lavorato con incompetenza. Io do la mia risposta classica. Il Vangelo secondo Gentilini dice ordine, disciplina e rispetto delle leggi. Chi ha sbagliato paga.